Ciao ragazzi un grosso saluto da parte mia Luca Di Leonardo e dallo staff di TuttoFantacalcio.it Prima di iniziare a parlarvi di Pedro, nuovo arrivo in casa giallorossa vi invito a iscrivervi nel nostro canale YouTube TuttoFantacalcio cliccate sulla campanellina in modo da avere la notifica sui nostri nuovi video che andremo a fare nelle prossime settimane vi invito comunque anche a scriverci qua sotto nei commenti per capire anche qual è il vostro pensiero riguardo a Pedro giocatore spagnolo e riguardo anche la vostra preparazione all'asta 2020-2021 inizio quindi a parlare di Pedro, giocatore che tutti sicuramente conosciamo classe 87, attaccante, è un giocatore che nell'ultima stagione al Chelsea ha collezionato appena 11 presenze e una rete ma in generale è un giocatore cresciuto nel Barcellona, deputato nel 2007 è stato 5-6 anni nel Barcellona dove ha collezionato 208 presenze e ben 58 reti vincendo una ventina di trofei nel 2015 si è trasferito al Chelsea dove ha vinto un'Europa League, ha collezionato 137 presenze e 29 reti è stato titolare ma anche tuttora nel giro della nazionale spagnola dove ha vinto un mondiale e un europeo collezionando 65 presenze e 17 reti le caratteristiche le conosciamo di Pedro, un giocatore veloce, abile nel dribbling è un giocatore che sa creare sicuramente superiorità numerica perché come ho detto è abile nel dribbling qual è il consiglio di tutto fantacalcio? Non sarà un titolarissimo, arriva a Roma a 33 anni sicuramente sarà soggetto al turnover come quasi ogni giocatore dello scacchiere di Fonseca bisognerà capire se Fonseca riuscirà a tirar fuori l'enorme potenziale che ha questo giocatore proprio per questo se fosse listato attaccante può essere consigliato come terzo o quarto slot del vostro attacco se fosse listato centrocampista può essere anche un secondo o terzo slot del vostro centrocampo chiaramente gli slot cambiano a seconda del ruolo che gli verrà assegnato presumiamo che verrà listato attaccante ecco quindi ragazzi una breve analisi di Pedro, nuovo giocatore della Roma vi invito a vedere i nostri vecchi video riguardanti le vecchie schede giocatore e i video riguardanti sull'organizzazione dell'asta 2021 un grosso saluto da parte mia Luca Di Leonardo e dallo staff di tutto a fantacalcio.it ciao ciao